Semi finalisti a Rock Tergato Italia del 2000 e vincitori ad Arezzo Wave del 2001 come gruppo rappresentante Le Marche, pubblicano il primo album, Pornocoma, nel 2002 per la Freedger Records. L'album viene recensito positivamente dalle principali testate giornalistiche di settore, dai più importanti siti web musicali, e riceve la nomination per il premio Fuori dal Mucchio, concorso realizzato dal mensile Il Mucchio in collaborazione con il May e dedicato al miglior album ed esordio. Nel 2004 hanno l'occasione di aprire i concerti del tour estivo dei Gang, una delle più importanti band della scena combat rock militante, fondata dai fratelli Marino e Sandro Severini. Partecipano alla compilation del sito web Music Boom, Boom Song for Velvet, dedicata ai Velvet Underground. Il brano scelto è Ulavis di San. Nel corso del 2005 Lorenzo Castiglioni compone e registra, presso lo studio di Paolo F. Bragaglia, i brani per il nuovo album A Poria. Durante il 2006 la promozione del disco ha ancora una volta ottimi risultati. Nello stesso anno, i Drunk and Butterfly compongono 20 brani per un usual library, l'iniziativa editoriale Fridge Records e Godfellas, che riguarda un database online, contenente musiche composte appositamente per realizzazioni audiovisive, documentari, filmati industriali, corti e presentazioni. Durante il 2007, i Drunk and Butterfly registrano il loro terzo album Maggio Giardinaio. Il CD viene pubblicato alla fine di aprile 2008 dall'etichetta Sears Recordings. L'album contiene il brano Polvere su Polvere, nel quale si rinnova il sodalizio con i Gang, Special Guest Marino alla Voce e Sandro alla Chitarra. Il 29 maggio 2008, su richiesta dell'Arci Provinciale di Macerata, e nell'ambito della rassegna omaggio al cinema Muto, Muto Maggio, i Drunk and Butterfly sonorizzano dal vivo la pellicola, l'ultima risata di Murnau. Grazie al successo dell'evento, i Drunk and Butterfly decidono di riproporre lo spettacolo in tour per l'Italia, e di pubblicare un nuovo album con le musiche appositamente composte per la sonorizzazione del film. L'ultima risata, il loro quarto album, composto da 13 tracce, esce il 25 maggio 2010 per l'etichetta bolognese Irma Records. Segue un lungo tour di sonorizzazione fino alla fine del 2011, che tocca le principali città d'Italia e, per la prima volta, l'Austria. I Drunk and Butterfly trascorrono buona parte del 2012 a comporre e registrare il nuovo album Epsilon. Il disco, anticipato dal video di Risacca, esce alla fine di ottobre sempre per la Irma Records. Il gruppo intraprende un tour che concentra una trentina di concerti in poco più di 5 mesi, e che tocca i principali live club d'Italia, come il Circolo degli Artisti a Roma, e il New Age a Treviso. Il consenso è unanime. Epsilon viene definito come un piccolo capolavoro dell'underground italiano e le performance del gruppo come le più potenti attualmente in circolazione sul suolo italico. A testimonianza del suo talento tecnico ed espressivo, Fabrizio Baioni viene chiamato da Il Teatro degli Orrori per sostituire dietro i tamburi Franz Valente, impegnato con l'altro suo progetto Lavin Elevator. Fabrizio si esibisce il 2 dicembre assieme al Teatro degli Orrori per la XL Night, nell'ambito del Medimax al Teatro Chismet di Bari. Il 22 marzo del 2013, XL di Repubblica, pubblica in esclusiva il nuovo video dei Drunken Butterfly. Danza, secondo singolo estratto dall'album Epsilon. Epsilon. Epsilon.